ciao raga io sono francesco e oggi nuovo vlog e niente sono arrivata adesso in un centro commerciale oggi ho ritirato la macchina perché ieri ho fatto cambiare la bomba del gpl e stamattina ad andare a prendere e niente mi vado a fare un giro al centro commerciale dal momento che per ora si può andare ci becchiamo dopo buongiorno oggi sabato e questa è la colazione mia del mio compagno io voglio la ciambellina rosa ah e poi c'è anche quella ciao raga oggi domenica ho dormito a casa di mia suocera adesso sto andando a farmi un giro in macchina perché tanto il mio compagno è andato via in bici comunque volevo farvi vedere cos'è che ho preso l'altra volta al centro commerciale intanto che la macchina si scalda ho preso questo portafoglio qua mi sono presa il portafoglio nuovo mi sono fatta il regalo detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima clip ciao buongiorno raga anzi buon pomeriggio oggi è venerdì io sono dai miei suoceri siccome il mio compagno è andato a lavorare io vado a prendere la torta per san valentino e vediamo cosa prendo oggi è sabato 13 anni evitato eccoci qua raga allora questo è un blog strano perché in questo periodo non è che ho fatto delle grandi cose per questo che è così corto questo blog vi ho fatto vedere cosa ha mangiato san valentino oggi è il 16 il regalo che ho ricevuto vi ho fatto anche vedere e niente questo questo è quanto lo chiudo qui il blog oggi ho portato la macchina a fare la revisione tra un po la devo andare di prendere è un periodo che non ho fatto delle cose molto strane da dover bloggare ecco detto questo vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao